Cari amici, siamo qui per introdurvi un'ulteriore nuova puntata delle nostre lezioni di ascolto edizione 2022-2023. Siamo arrivati all'incontro di marzo, che dovrebbe essere il quinto incontro di questo ciclo. Di che cosa parleremo questa volta Giancarlo? Di valvole, le lampade magiche, quindi siccome le valvole, tanto quanto il vinile, stanno conoscendo una nuova primavera, quindi un grande successo o revival, ne parleremo, quindi capiremo a che punto sono arrivate le valvole, a che punto sono arrivati i transistor, quindi lo stato solido e faremo delle considerazioni e degli ascolti. Non vi spaventate, non sarà una cosa tecnica, ma piuttosto un scoprire per chi non le aveva mai viste accese o riscoprire per chi se le ricordava all'interno dei tv, magari dei papà o dei nonni, che le valvole suonano, hanno un gran bel suono e quanto poi questo suono è fondamentalmente diverso da quello di uno stato solido. Non è meglio, non è peggio, è semplicemente diverso. Lo scopriremo insieme. Sarà un incontro divertente perché faremo un po' di confronti diretti all'ascolto. Veniteci a trovare!